danno a tutti noi come cittadini ed è un'opportunità fondamentale perché è un'opportunità di poter esprimere anzitempo i nostri desideri, le nostre volontà su quel nostro fine vita che ci deve in qualche modo accompagnare anche lungo tutto il percorso della nostra vita stessa. Forse le persone temono di più è come si scrivono queste datte, sembra sempre un mistero, qualche volta mi sono sentita a dire dove andiamo a recuperare le datte, dove si trovano, ci sono tanti moduli per scrivere le datte. Sì, è vero, se uno gira su internet trova tanti format, tanti schemi e qual è il migliore, qual è quello giusto, ce n'è uno più corretto dell'altro? No, non ce n'è uno più corretto dell'altro, però bisogna conoscerli, bisogna in qualche modo confrontarci con quello che si chiedono. Ciao! Ciao!